La Visseriano regala il primo successo al pubblico di casa mettendo a segno una vittoria in rimonta contro il Montesarchio. Una vittoria che arriva all'esito di una gara combattuta e che probabilmente per gli ospiti, visto il numero di occasioni create, avrebbe potuto riservare qualche soddisfazione in più. La formazione arianese reagisce allo schiaffo subito dagli ospiti e riesce a ribaltare nella ripresa un risultato che consente ora alla compagine del Tricolle di agganciare la quarta piazza in classifica. Primo tempo abbastanza piacevole con l'Ariano capace di creare molte occasioni in zona d'attacco, un po' la scarsa precisione delle punte della squadra del Tricolle, ieri in maglia bianca, un po' la bravura del portiere avversario impedivano alla squadra di casa di trovare il gol del vantaggio ed era così che in una delle azioni della squadra avversaria nasceva il calcio di rigore in favore del Montesarchio. Inutili le proteste dei giocatori di Silvestro, dagli 11 metri polvere non sbagliava sbloccando il match che restava sul risultato di 1 a 0 per la squadra azzurra fino alla fine del primo tempo. Il gol del vantaggio infondeva grande fiducia nel Montesarchio che cominciava a macinare gioco ad inizio ripresa creando diverse occasioni dalle parti di Mazzone. La Vissariano si dimostrava però fredda nel reagire immediatamente al tentativo degli ospiti di chiudere il match. Sotto rete la squadra del Tricolle continua ad essere implacabile. A rialzare le sorti della partita ci pensava così il solito Capodilupo, bravo a finalizzare un'azione nata al limite dell'area e che si era sviluppata abbastanza convulsamente con una serie di rimpagli e conclusioni sbagliate. Capodilupo tentava il bis personale una manciata di minuti dopo ma il portiere avversario era bravo a rifugiarsi in angolo sul colpo di testa della punta arianese che cercava di replicare qualche minuto più tardi spingendo la palla di poco oltre la traversa. Il Montesarchio provava qualche sortita in contropiede ma senza alcun frutto. Il gol era nell'area ed arrivava da un'azione d'angolo. Mischia in area caudina con Purcaro più lesso di tutti a ribadire in rete la palla del 2 a 1. Il secondo gol della vista ariano spegneva le velleità del Montesarchio che rischiava anche di subire il terzo gol proprio nell'azione finale del match quando Jonathan centrava la traversa davanti alla porta sguarnita. Non c'era altro tempo e il triplice fischio finale consegnava alla squadra di mister Silvestro tre punti pesantissimi. L'Ariano si piazza in zona playoff allungando a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Ora testa al derby in programma per il prossimo turno allo stadio romano di Grotta Minarda.